Tre giorni di successo per la Puglia Turistica, la Borsa Internazionale del Turismo tenutasi a Milano in questi giorni. Grande affluenza di pubblico e addetti ai lavori nel padiglione 3 di Fiera Milano City, che ha visto la Puglia e la Capitanata protagonisti insieme alle principali realtà turistiche italiane. Numerosi gli appuntamenti in programma, predisposti nello stand organizzato da Puglia Promozione, con cooking show, degustazioni e incontri B2B. Novità dell'edizione 2018, l'accordo innovativo sul turismo fra Puglia e Lombardia per l'attuazione di un piano comune per la promozione e l'allungamento della stagione turistica. Loredana Capone, Assessore al Turismo, Regione Puglia. Noi non siamo concorrenti, ma siamo complementari come regioni. I monti, il mare, i laghi, la bellezza della costa, e poi la bellezza della cultura, così diversa tra un territorio e l'altro, ma anche così intrigante. Allora lavorare insieme per promuoverci insieme all'estero significa unire le migliori prassi dei due territori e puntare sulla formazione per qualificare sempre di più l'offerta. Ciascuno di noi ha molto da imparare, ma è bellissimo poterlo fare insieme e aiutare gli operatori ad organizzarsi e a promuoversi. Insomma, i pugliesi sotto il profilo dell'organizzazione credo che abbiano il piacere di lavorare con i Lombardi e i Lombardi sotto il profilo dell'autenticità e dell'originalità hanno sicuramente anche piacere di lavorare con i pugliesi.